Un disservizio intollerabile ai gestori del cimitero era stato chiesto di rendere possibile l'accesso ai reparti prevedendo un passaggio pedonale in assoluta sicurezza. Non è stato fatto e assumeremo i dovuti provvedimenti a quanto afferma l'assessore ai servizi al cittadino del comune di Piacenza Paolo Mancioppi dopo le polemiche sollevate da alcuni frequentatori che da oltre due mesi non possono far visita ai propri cari i cui loculi sono collocati in una galleria del reparto 4 del cimitero di Piacenza. Lo spazio è stato chiuso con una rete verde ed è inaccessibile. Sarebbero dovuti partire lavori di ripristino delle campate da cui cadono calcinacci ma ad oggi nessun intervento di messa in sicurezza è stato effettuato. Inoltre sul cartello affisso sulla transenna in cui la cooperativa sociale Barbara B di Torino si scusa con gli utenti per i disagi non è riportata la data di ripristino del servizio. Non si sa dunque quando e se partiranno i lavori. Alessandro Di Mauro amministratore delegato di Piacenza Servizi Cimiteriali società che gestisce la struttura fa sapere che la chiusura risale a circa 60 giorni fa. Decisione presa per prevenire gravi pericoli all'incolumità dei visitatori non è possibile aprire la galleria per motivi di sicurezza. Confermiamo l'interesse dell'assessore per una pronta soluzione del problema ma non ci risulta ad oggi scrive Di Mauro in una nota trattandosi di una manutenzione straordinaria rimessa alla volontà diretta dell'ente locale nessun ordine di intervento da noi in evaso.